Ciao a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale. C'è stata la pausa natalizia, quindi questa è la prima trasmissione del 2018. Che mi ascolta auguro tutti un buon anno, che sia un anno veramente per quanto riguarda la classe operaia, la classe lavoratrice, un buon anno di riscossa. Iniziamo con oggi, credo di accennare due argomenti. Uno è quello di attualità, quello dell'Iran, delle proteste che ci sono state in Iran ultimamente. Di notizie ne abbiamo poche, perché quel regime fa trapelare poco. Se ne sa qualcosa solo attraverso la rete, sondando un po', cercando. Su questo io vi leggo un po' che sono più aggiornati. Quindi c'è un po' un lavoro collettivo dei compagni di NP1, sul loro sito quinternalab.org, dove ogni settimana si fa la riunione pubblica, anche in teleconferenza, per cui chi lo vuole lo può assistere, loro hanno sondato un po' attraverso la rete com'è questa situazione. E così ne ricavano queste notizie, che sono interessanti, e dicono che dalle notizie che si può recuperare attraverso il web, sembra che la scintilla che ha dato il via alla rivolta, sia scoccata lo scorso 28 dicembre a Moshad. La seconda metropoli del paese, con i suoi 2,5 milioni di abitanti. Per cosa è scoppiata questa rivolta? A causa del carovita e dell'elevata disoccupazione e contro la corruzione. Inoltre, per il 2018, il governo Rouhani ha approvato una legge di bilancio che prevede, tra le altre cose, un forte aumento del prezzo della benzina, il 70%, di luce e gas, un aumento del 40%, dell'imposta sui viaggi all'estero e degli importi sulle multe stradali e soprattutto abolisce i sussidi governativi diretti che in IRA riguardano circa i 20 milioni di persone, un quarto della popolazione. Quindi, questa è stata la scintilla che ha fatto scattare questi scioperi. Poi, dentro, tutti cercano un po' di politicamente sguazzarci con la loro politica. Inizialmente, quindi, le manifestazioni sono state utilizzate dai conservatori, avversari dell'attuale, cioè il governo, cioè gli avversari di Rouhani, per denigrare l'operato del governo in carica. Molto presto, però, le proteste si sono generalizzate e fatte più violente e hanno cominciato a rivolgersi anche contro la guida suprema Camenei, dandone delle fiamme ritratti e simboli propagandistici. La rivolta, amplificata dai social network e servizi di messaggistica istantanea, in particolare Instagram e Telegram, a cui il governo ha subito bloccato l'accesso. È una delle prime cose, proprio tutti i governi, e loro hanno fatto anche l'Egitto, nella Primavera Araba, in Turchia, eccetera. La prima cosa che i governi fanno sono quelle di bloccare le comunicazioni attraverso questi social, che hanno una forza molto potente di aggregazione. Si è estesa ad altre 50 città, quindi questa rivolta. Nelle immagini e nei video dei cortei che hanno attraversato le strade di numerose città del paese, non si vedono cartelli o bandiere e per ora il movimento non ha espresso né leader ben definiti, né rivendicazioni costruttive da proporre al regime, quindi una manifestazione molto spontanea, diciamo una manifestazione di rabbia più che altro, assumendo piuttosto un profilo antisistema, confermato anche dagli assalti a colpi di arma da fuoco a caserme e basi militari. Al momento della riunione, che è stata fatta il 2 gennaio, quindi sei giorni fa, 23 morti e circa 450 arresti, soprattutto fra i giovanissimi. L'altro ieri veniva fuori, o stamattina non mi ricordo, la preoccupazione che essendosi mossi molti studenti, ci sono stati molti arresti di giovani, quindi le mamme preoccupate che quel regime poi li faccia sparire, questi giovani, o marcire, sparire, marcendo nelle galere dell'Iram. Ma chi sono questi manifestanti, questa massa che non si capisce bene? Quindi bisogna sempre cercare per capire un po' chi si interessa di politica a queste cose. Secondo la debca file, sito vicino ai servizi israeliani, quindi teniamo conto anche di questo, sarebbero operai, contadini e disoccupati ad affollare le manifestazioni, a cui invece non avrebbero partecipato i commercianti e la componente studentesca, che per ora si è limitata a dare vita a qualche raduno fuori dell'Università di Teheram. E qui ci sono stati molti arresti sugli studenti. Confrontando le proteste in corso con la rivolta verde del 2009, emerge chiaramente la differenza della composizione di classe. Se allora a dare il via furono gli studenti e alcuni settori della classe media, questa volta non risulta evidente alcuna organizzazione politica parlamentare alla testa del movimento, il quale mostra un marcato carattere proletario di ribellione contro lo stato di cose presenti. Ad alcuni giorni dall'inizio della rivolta, sembra che la protesta connessi nello sciopero generale, indetto per il martedì 2 gennaio, ma l'iniziativa non ha avuto successo. Con la stessa giornata, il sito israeliano segnalava manifestazioni in corso in diverse città iraniane, ma contro i rivoltosi. Infatti ci sono state grandi manifestazioni, fatte dal regime a sostegno del governo Rouhani e a favore di Rouhani e alla guida suprema Camenei, che su Twitter aveva diffuso un appello alla calma, non a escludere l'avvio di una repressione, che poi c'è stata, in grande scala, anche se fino ad ora il governo è stato piuttosto cauto. e a fronte di questo tutte le nazioni, i politici, ci sguazzano, ognuno per, un po' come in Italia, insomma, ognuno per ricavarne interessi da propri, per poi andare al governo, per sostituirsi al governo presente, ma non certamente per fare un salto qualitativo del sistema. Allora, l'Iran, per capire un po' com'è fatto, cos'è la popolazione, com'è formata, allora, attualmente l'Iran conta 82 milioni di abitanti, quindi sono di più dell'Italia, e con una popolazione attiva di circa 35 milioni, si conferma, capitalisticamente matura, allora 35 milioni sono di più attivi, sono di più dei milioni, dei 22 milioni, l'Italia, che ha le popolazioni attiva. Nella composizione di PIL, agricoltura, industria, e servizi, hanno una quota rispettivamente, il 9,2% dell'8% in agricoltura, il 34,3% nell'industria, e il 55,9% nei servizi, queste sono stime del 2016, mentre la forza lavoro è distribuita rispettivamente, il 16,3%, il 35,1% e il 48,6%. sono le cifre di un paese avanzato, modernissimo, potenza media, di medie dimensioni, che faceva esercitare, una certa influenza nell'area medio orientale, soggettivamente, loro si sono sempre dichiarati nemici degli Stati Uniti, ma obiettivamente, se guardiamo, loro partner, nello scacchiere internazionale. L'Ira, guerreggia militarmente in Siria, ricordiamo che è militarmente lì attivo, in Iraq, paese confinante, e Libano, ed è presente in Yemen, dove appoggia gli Outsi, in Arabia Saudita, dove fomenta le milizie shita, in Bahrain. e fomenta in Bahrain, è anche presente. Immaginiamo cosa potrebbe succedere nell'area, se il paese entrasse in una fase di caos interno. E qui c'è ovvio una considerazione, che fin dall'inizio delle proteste, Donald Trump ha sostenuto, che il popolo dell'Iran si ribella, perché affamato e senza diritti. Stuzzicato, il governo iraniano ha risposto per le rime, invitando il Presidente degli Stati Uniti, a badare ai suoi milioni di senzatetto, e alla violenza della sua polizia. Tra gli atlianalisti occidentali, sono in molti a ritenere, che le rivolte iraniane, siano state provocate da agenti di Israele, Arabia Saudita, suddita e usa. Come se le popolazioni, questa quadrazione dei compagni di Quinterna Lab.org, se le popolazioni non fossero in grado di auto-organizzare manifestazioni e proteste, e non si fossero determinazioni materiali, tali da spingere in piazza migliaia di persone. le determinazioni materiali, quali sono? Quelle che abbiamo letto prima, cioè gli aumenti, i rincari dei prodotti, e l'incari del prezzo della benzina, della luce, del gas, di venere a meno ai sidi statali di milioni di persone. Quindi sono queste le determinazioni oggettive che fanno muovere le persone. Poi che queste manifestazioni, che queste proteste, siano incanalate in modo giusto per rivoltare questa società che abbiamo visto, che in Iran è una società ultramatura, capitalisticamente, quindi vive le stesse contraddizioni che vivono tutti i paesi capitalistici, che esistono solo paesi capitalistici, da che se ne voglia dire la Russia, che dicono che è il comunismo, la Cina è comunista, no, non ci sono paesi comunisti, sono tutti capitalistici, perché hanno un determinato modo di produrre, dove c'è lavoro salariato, è un paese capitalistico, non ci sono dubbi su questo, è un assioma. Quindi vive le contraddizioni di questo sistema di produzione. Non esistendo un partito che possa dare delle indicazioni precise sul superamento di questa società, quindi andare a un'organizzazione sociale diversa, dove ci sia un piano di produzione che sia in armonia con la specie umana e l'ambiente e quindi l'organizzazione della produzione, il cosa e come produrre, lo decidono le persone sempre in armonia con l'ambiente, è chiaro che succedono queste contraddizioni, dove si lascia che sia la singola azienda a produrre, a pensare cosa produrre, come produrre, e poi a lasciare al mercato questa mano invisibile che regola tutto, lo vediamo sotto i nostri occhi le contraddizioni che ne nascono. E queste contraddizioni si possono leggere benissimo anche sugli articoli di giornale del nostro bellissimo paese che vive di queste contraddizioni. Una delle contraddizioni, se vi ricordate, tempo fa parlavamo dell'algoritmo in fabbrica dell'IKEA, cioè di quella lavoratrice che fu licenziata perché non soddisfava, non riusciva a tenere l'organizzazione che l'algoritmo preposto per far funzionare quella fabbrica l'IKEA non riusciva a soddisfare i turni di lavoro perché doveva accutire la propria figlia. Ma non è solo un articolo interessante di Repubblica di 4 gennaio e titola a questo titolo La vecchia fabbrica è come Amazon, comanda sempre l'algoritmo. Anche nelle aziende della manifattura tradizionale sono software e robot a dettare i ritmi di lavoro e i dati raccolti sui dipendenti nascondono una nuova forma di controllo. Ecco, l'articolista si sofferma a fare un giro su alcune fabbriche un grande centro distributivo di Amazon a Castel San Giovanni, Piacenza lavorano circa 500 persone per turno a Gussano il magazzino di 2000 metri quadrati è completamente automatizzato e inaccessibile all'uomo. Nei quattro bracci i robot crepavano la merce dagli scaffali alti 15 metri l'incrocio con l'uomo potrebbe essere pericoloso per l'uomo perciò il magazzino è circondato da una gabbia l'addetto resta rigorosamente fuori e controlla le operazioni attraverso una pulsantiera e qui poi l'articolista continua a descrivere un po' questo lavoro dei robot che in realtà l'introduzione delle macchine capitalisticamente è un aumento dello sfruttamento un aumento dello sfruttamento sul lavoro perché chi adopera questi robot li adoperano non per far star meglio i lavoratori è una causa indiretta questa di far meno fatica ma in realtà per produrre di più ed aumentare il profitto di quell'azienda in realtà il robot poi porta a un surplus di lavoratori i quali vengono espulsi dal mondo del lavoro in vario modo da una parte dall'altra abbiamo in questo caso nel nostro governo abbiamo delle incentivi con l'economia 4.0 attuate dal governo oggi in decadenza non è caduto non è caduto ma è finita la propria finita la legislatura dove c'è un iper ammortamento per chi compra queste macchine questo robot questa automatizzazione del 250% cosa vuol dire che a fronte di una spesa di un milione di euro dal reddito di impresa dall'IRPEG si possono accantonare 2 milioni e 500 milioni cioè 2 milioni e mezzo che vengono dove non si pagano non vengono pagate non viene pagato l'IRPEG l'IRPEG per le aziende no perché sotto la voce di ammortamento sotto la voce di ammortamento quindi in pratica è come lo Stato fa un regalo agli industriali che inseriscono nel mondo del lavoro questi robot e questa automazione da una parte e dall'altra i lavoratori ne subiscono le conseguenze che vengono espulsi i ritmi di lavoro aumentano eccetera se le aziende non pagano tasse sui loro profitti ma questi addirittura vengono restituiti in altro modo i soldi che lo Stato come esattore preleva dalla collettività vuol dire che la fabbrica dovrebbe essere un po' anche dei lavoratori e invece questi vengono trattati come sappiamo con l'algoritmo che i giornali riportano ma non solo poi chi vuole trovare lavoro oggi lo trova nella gig economy che cos'è la gig economy con questo termine si intende un modello economico sempre più diffuso dove non esistono più le prestazioni di lavoro continuativo cioè il posto di lavoro fisso il contratto a tempo determinato o indeterminato ma si lavora a domanda on demand cioè solo quando c'è richiesta per i propri per prodotti servizi eccetera e quindi troviamo quelli che portano inciso la pizza tutti quei lavoretti che vengono che ogni tanto sui giornali i giornalisti riportano in rilievo queste cose ecco questo invece di essere l'automazione invece di essere un benessere collettivo sta diventando invece per la classe lavoratrice sta diventando veramente pesante questa situazione appellarsi alle organizzazioni sindacali le organizzazioni sindacali ormai oggi come sono hanno una compartecipazione con le aziende diventa difficile che queste organizzazioni possano prendere sono corporativo poi fra l'altro quindi azienda per azienda al massimo un settore metallo meccanico chimico edile energia commercio quindi ben divisi ben spezzettati come classe operaia le organizzazioni sindacali non vedono più il mondo globale il mondo del lavoro rappresentanza di una società dove c'è il 1% che detiene il 99% sono molto corporativi basta guardare anche gli ultimi contratti aziendali dove c'è questo welfare aziendale che serve nient'altro per tenere legati sempre di più i lavoratori all'azienda se l'azienda va bene hai il welfare quindi hai delle briciole in più altrimenti se va male va più male che non è corretto mi sembra in Italia va malissimo per i lavoratori quindi questi sono i punti di riflessione che volevo fare vi invito nuovamente perché sono molto più precisi andare a vedere nel sito di quinternalabo.org queste queste riunioni settimanali leggere il resoconto e iniziare a discutere anche su quello che viene proposto e su quello che loro dicono ho finito per questo primo appuntamento ci vedremo fra 15 giorni con gli argomenti in questo periodo più rilevanti grazie a tutti e a risentirci ciao a